Disegno vestiti, ho iniziato disegnando abbigliamento. Mi piace indossare sneakers durante la vita di tutti i giorni, cerco di mixare look, gonnelline, gonne varie con la scarpa ginnica in tutte le occasioni. I miei genitori sono sempre stati viaggiatori, hanno trasmesso questa passione e tuttora ce l'hanno anche loro. Nella mia vita cerco di praticare il più spesso possibile sport e cerco di, soprattutto quando sono a Milano, non utilizzare mezzi pubblici per spostarmi, ma andare a piedi oppure usando la bicicletta. Sicuramente mi piace mantenermi in forma, mi piace vedermi curata, quindi pratico sport sia per avere un rigore nella vita, però soprattutto per vedermi bene. Just Eat per me può essere di cercare di cogliere tutte le occasioni al volo, fare tutto ciò che è possibile in una giornata senza rimandare le cose domani.